Io e il dottor Salvatore Cusenza, specialista in scienza dell'alimentazione, che ci ha raggiunto in studio. Come ogni martedì siamo già partiti a dialogare di salute sana alimentazione, come facciamo ogni martedì. Ma per dare la giusta ufficialità a questa chiacchierata, chiedo alla regia di lanciare la sigla. Mente sana in corpo sano, dicevano i nostri antichi padri, per cui è importante tenere allenata la mente e anche il corpo. Abbiamo appena visto la nostra classica rubrica del martedì sugli allenamenti e poi bisogna mangiare sano. In soccorso di una sana e corretta alimentazione, con la salute vi è mangiando, abbiamo la fortuna di avere con noi il dottor Salvatore Cusenza. Buongiorno dottore, ben trovato. Buongiorno a voi. Grazie, grazie per la disponibilità che ogni settimana ci regali prima di aprire il tuo studio. La fortuna vuole che siamo vicini di casa. Oggi vogliamo parlare di dieta chetogenica perché se ne fa tanto parlare, ma pochi sanno davvero bene che cos'è la dieta chetogenica. Chetogenica è una parola che se si va su Google e si schiaccia chetogenica, non so quante ricerche escono. La dieta chetogenica prende il nome dei corpi chetonici che si liberano da questa dieta, quindi betidrossibutirrato, aceto acetate e acetone che viene eliminato col respiro. Ed è un approccio alimentare che nasce 120 anni fa perché un dottore, di cui non ricordo il nome, inglese, si era reso conto che il figlio che soffriva di crisi epilettiche, riducendo la quantità di carboidrati giornaliera, aveva sempre meno attacchi epilettici, fino al punto di aumentare i grassi, azzerare i carboidrati e le crisi erano totalmente o quasi scomparse. Quindi la dieta chetogenica nasce per questo motivo, è stata scoperta per questo motivo 100 anni fa, 120 anni fa, si applica benissimo a chi soffre di emicrania, farmaco resistente, quindi quando il triptano non funziona più o altri farmaci non funzionano più, si passa alla dieta chetogenica, oppure non voglio usare i farmaci, passo direttamente in chetosi. Quindi la dieta chetogenica negli ultimi 20 anni è stata così sminuita, ma ha un grosso valore scientifico, con tantissime pubblicazioni su PubMed, che è la bibbia delle pubblicazioni scientifiche. Se si clicca a chetogenica usciranno 7-8 mila lavori internazionali, perché va avanti da tanto tempo. Poi io mi sono formato per quanto riguarda le diete chetogeniche un anno di perfezionamento al centro nutri-chete di Avellino, l'ospedale Moscati, che collabora con l'Università di Salerno e hanno circa 60.000 pazienti in trattamento, per quanto riguarda crisi epilettiche, emicrania, ovaio policistico, psoriasi, diabete di tipo 2 non insulino indipendente, ma anche fibromialgia negli ultimi 3-4 anni e poi per la perdita di peso. Purtroppo negli ultimi anni viene sminuita come una dieta fatta di proteine e verdure per perdere peso, ma non è una chetogenica quella. La chetogenica è un approccio medico, terapeutico, alimentare, dove si ha un rapporto, un capparazio, che è il rapporto tra grassi e proteine, che deve essere almeno di 1 a 1, quando si deve perdere peso. Nei pazienti che non devono perdere peso e hanno crisi epilettiche, emicrania o altre patologie, che è primo elencato, si può addirittura arrivare a un rapporto di grassi e proteine 4 a 1, grassi di un certo tipo, bisogna abbondare con burro ghi, burro chiarificato, olio di cocco a 8 atomi di carbonio. Perché 8 atomi di carbonio? Quindi acidi o caprilico purgo. Perché gli 8 atomi di carbonio non vengono accumulati come grassi, vengono subito trasformati in energia. E si è anche visto che queste persone che vanno in chetose, a parte i primi 3-4 giorni in cui soffrono di sensazioni tipo l'influenza, sintomi chiamati chetoflu, spostatezza, stanchezza, perché il corpo si sta disintossicando dall'eccesso di carboidrati nel corpo, una volta andati in chetosi questi stanno benissimo, mentalmente, fisicamente, meno appannati, più energici, più lucidi, ha tanti benefici. Si parla anche di cervello chetogenico in cui deve fare gli esami, due settimane prima di fare un esame all'università, togliere i carboidrati, andare in chetosi e essere più lucidi agli esami. Quindi la chetogenica non è, faccio l'esempio assurdo, petto di polla e insalata, no. Petto di polla e insalata, ma anche dei grassi. Quella è una proteica. E soprattutto la chetogenica non è una iperproteica, perché ogni qualvolta io devo fare questo approccio, la risposta, la domanda è ma i reni si rovinano? E io faccio un'altra domanda. Signora o signore, lei beve alcolici? Sì, a posto. Sono più gravi quelli. Anche perché la dieta chetogenica ha un rapporto, ha un quantitativo di proteine di 1,4-1,5 per chilo corporeo, quindi non è un'iperproteica. Bene. Tante volte, ecco, durante la nostra giornata, sia per idratarci che per, diciamolo pure, riempire un po' lo stomaco, mangiamo yogurt, beviamo succhi, pensando che stiamo facendo una cosa buona e giusta. È sempre così? Allora, lo yogurt può essere un giusto tra parentesi integratore, perché comunque un po' di fermenti là ci servono. Logicamente, se poi dobbiamo scegliere uno yogurt e prendiamo quello con il 20% di carboidrati, non va benissimo. Per quanto riguarda i succhi o la mia teoria, un litro di succo non può costare un euro, un euro e venti, se un chilo di frutta costa due euro. Considerando il fatto che per fare un litro di succo occorrono due, tre chili di frutta, mi sembra strano che un litro di succo per cui occorrono tre chili di frutta costi un terzo della frutta. Quindi sicuramente acqua, zucchero e un po' di polvere di frutta essiccata mischiata insieme. Frutta che non sarebbe vendibile al supermercato. Ecco perché costa così poco. Ed ecco perché sono così dolci. Poi ci sono inventate le scritte senza zuccheri aggiunti, quindi alla dimostrazione che nelle altre vengono anche aggiunte l'altro zucchero. Quindi c'è tutto un discorso dietro. Ecco magari con i succhi. Quanto costa troppo poco c'è un problema. E questa è un'altra realtà, quindi con i succhi magari ci andiamo in maniera moderata. I succhi io ho sempre l'idea che si compra una centrifuga e se la fa a casa il succo. Ci aggiunge anche un po' di verdure, peperoni, cetrioli e quant'altro e fai un mix di vitamine e oligoelementi. Meno dolce ma più sostanzioso. Ecco quindi. E là ti rendi conto di quanto spenti per fare 2-300 ml di centrifugato e non un euro un litro senza fare nomi di marchi perché più o meno si equivalgono come prezzi. Sì, infatti. Quindi prendiamoci la briga, la buona abitudine di scendere a fare la spesa e di prendere un po' di frutta. Magari adesso andiamo incontro alla stagione degli agrumi, prendiamoci un po' l'impegno di farceli a casa questi succhi. Esatto. Hai fatto l'esempio degli agrumi. Per fare un litro di premuto di agrumi ci vorranno 2 kg di arance. Com'è possibile che poi si va al supermercato e un litro di succo d'arancia costa un euro? Anche di meno o qualcosa in più? È impossibile. Vero, assolutamente d'accordo con te. Dottore, per arrivare alla conclusione di questa chiacchierata di oggi, oggi giornata mondiale degli anziani, abbiamo detto prima facevamo riferimento alla perdita di peso come scelta dietetica. In realtà tante volte negli anziani succede che la perdita di peso è un po' fisiologica. È fisiologico perché sia l'anziano superati 50 anni, 55 anni, riducendo gli ormoni, si riducono automaticamente nel corpo il testosterone, gli ormoni della crescita. Di conseguenza si tende a perdere muscolo. Quindi cosa bisogna fare nell'anziano prima di arrivare al meritene, che viene sempre pubblicizzato dai 70-75 anni in poi? Bisognerebbe contrastare la sarcopenia, che altro non è che la perdita di tessuto muscolare, aumentando un po' il carico proteico, facendo un po' di esercizio, quindi stimolando il muscolo a essere ipertrofico. Spesso mi sento dire ma io la carne ormai non la mangio più. Va benissimo, esistono degli integratori proteici del serio e del latte, che è la migliore proteina esistente in commercio, 15-20 grammi di quello a colazione, come spuntino, come integratore durante la giornata, ci sono di vari gusti, in un po' di acqua, un po' di latte, un po' di bevanda vegetale si vanno a tamponare questi difetti. Oppure prendere 6-7 grammi al giorno di amminoacidi essenziali, essenziali perché? Perché sono quelli che il corpo non produce, bisogna prendere dall'esterno, quindi in polvere, 6-7 grammi di essenziali e si vanno a tamponare un po' di danni. Da dove li possiamo trarre questi amminoacidi essenziali? Dalla farmacia, in bustine perché gli essenziali si vendono in bustino, in compresse, sono un po' in tutti gli alimenti, ma non esiste un alimento che ti dà 6-7 grammi di amminoacidi essenziali in un'unica dose. Quindi è meglio integrarli dall'esterno, facendo un lavoro fatto bene. Te lo chiedevo perché nelle mie modeste, limitate conoscenze, ho sentito parlare di superfood come la spirulina. Sì, la spirulina è un buon integratore di amminoacidi, ma il costo è spropositato, quindi per arrivare a 6-7 grammi di amminoacidi essenziali dovresti spendere tanti soldi. Non è conveniente. Grazie, grazie dottore anche per questa dritta che guarda alla salute ma anche alla tasca. Noi ci ritroviamo la prossima settimana, sempre di martedì, per continuare a stare bene, mangiando bene, perché appunto mangiare bene significa vivere meglio. Certo. L'ultima cosa, ultimamente è uscito uno studio che parlava della restrizione calorica, quindi del digiuno intermittente. Anche se è iniziata a 70 anni, si allunga la vita di 3-4 anni. Quindi figuriamoci creare una piccola restrizione calorica dai 30-40 anni, si allunga la vita. Allora io ti fermo perché di digiuno intermittente potremmo parlare tranquillamente alla prossima settimana. Perfetto, va bene. Ok, allora appuntamento alla prossima settimana con il dottor Salvatore Cusenza, linea alla regia e noi ci ritroviamo subito dopo la sigla e la pubblicità.